Amici 16 Morgan, a dispetto, va su Raiun e sparla di Maria. Lo scontro continua. Colpo di scena dei più sgrediti nella già sgradevole vicenda che ha visto coinvolti Morgan e la redazione di Amici 16 di Maria De Filippi, il talent dove il cantante era stato invitato per fare da coach alla squadra dei bianchi. Come è noto, infatti, Morgan ha abbandonato il suo ruolo tra le polemiche e le accuse al programma, tanto che si è beccato persino una querela da Mediaset, e adesso, a quanto pare, ha deciso di vendicarsi passando al nemico. Prima parte. Morgan pugnala alle spalle Maria De Filippi. Di certo da Morgan nessuno si aspettava una caduta di stile del genere. Il cantante, infatti, ha deciso di accettare l'offerta di Milly Carlucci e di partecipare alla trasmissione Ballando con le stelle, la rivale per eccellenza di Amici, che va in onda su Rai 1 e che duella con il talent di Maria De Filippi a botte di ascolti e punti di Cher. Tuttavia Morgan non sarà presente nelle vesti di ballerino per una notte, come si pensava inizialmente. Seconda parte. Ballando con le stelle contro Amici. Cosa succederà nella serata? A quanto pare, infatti, l'ex coach della squadra bianca sarà semplicemente un ospite speciale che parlerà del ballo ma non solo, pare se è stato chiamato espressamente per parlare, o sparlare, di quanto successo con Amici e soprattutto con Maria De Filippi. Si tratta dunque di un vero e proprio colpo basso per la trasmissione Mediaset che di certo non fa onore a Milly Carlucci. Anche perché come fanno notare in molti che c'entra Morgan con il ballo e con i personaggi famosi che prendono parte al programma di Rai 1, ultima parte, Emma Marrone cerca di risollevare le sorti del programma. Nel frattempo, su Canale 5, Emma Marrone proverà a non far sentire l'assenza di Morgan e i ragazzi, né durante la gara, anche se obiettivamente sarà molto dura. La cantante, infatti, viene vista sempre più come la pupilla di Maria De Filippi, quella raccomandata, e sta perdendo via via consensi e simpatie. Riuscirà nell'impresa di conquistare il pubblico a casa come aveva fatto Morgan, che veniva contestato invece moltissimo dal pubblico in studio, che è decisamente dalla parte di Emma, chissà, staremo a vedere.